Oggi diamo una mano a Piano Soprano che mi ha chiesto un aiuto per realizzare una macchina che serve come incubatrice per le uova, quindi un sistema particolare. Oggi ne sviluppiamo una prima parte mentre loro la vanno ad assemblare perché non l'assemblano in Italia e quindi è un aiuto a distanza. Quindi questa macchina ha bisogno anche poi di un sistema di riscaldamento a reazione e controllo dell'umidità un po' simile alla serra che avevo sviluppato tempo fa, quindi essendo un progetto interessante ho deciso di dargli una mano, quindi oggi parliamo del movimento con il motore passo a passo per far muovere le culle. Iniziamo subito. Cerchiamo di risolvere il problema di Piano che vorrebbe andare a comandare un motore stepper quindi un passo passo per far oscillare una struttura. Questa struttura deve oscillare avanti e indietro, quindi una specie di culla diciamo così. Allora, invece che mettere due fine corsa oppure andare a misurare il numero di passi ho pensato di farla un pochino più elegante la cosa, anche perché non so dove va a finire sto circuito. Quindi ho pensato di mettere due fine corsa che vengono messi in parallelo. Quindi immaginate la nostra struttura sia una cosa così. Questa viene mossa dall'albero del motore passo passo, quindi andrà da una parte quindi si sposta, si sposta, si sposta, fino a che a un certo punto va a toccare il nostro fine corsa. Quando tocca il fine corsa inverte il moto, va dall'altra parte. Dall'altra parte avremo un altro fine corsa messo nello stesso modo e quando andiamo a toccarlo invertiamo di nuovo il moto. Quindi andiamo avanti e indietro. Quindi questi due fine corsa saranno messi in parallelo, adesso vediamo lo schema e avremo poi solo una regolazione di velocità. Allora regolazione di velocità classico trimmer da 10k che mettiamo tra 5 volt e ground lo portiamo sul pin a zero. Abbiamo poi questi due fine corsa. Fine corsa potete prendere quelli classici. Io ne avevo due, sono abbastanza osceni, di fatti scattano sì e no. Dunque hanno tre pin, uno è il comune e poi gli altri due, uno è l'NC e l'altro è l'NO. Quindi NC normalmente chiuso e NO normalmente aperto, quindi andiamo a prendere il primo e il terzo. Controllate bene, di solito è scritto sopra per non sbagliare. Allora come li colleghiamo? Abbiamo i 5 volt, li collego come se fossero dei pulsanti e saranno messi in questo modo qua. Quindi li faccio così con la levetta per ricordare un po' la forma che hanno. Vanno messi in parallelo, quindi li collego così con resistenza di pull down da 10k e poi li vado a portare su uno dei pin dell'arduino. In questo caso li collegheremo per esempio al pin 5. Poi dovremmo comandare lo stepper. Useremo un driver già pronto, per esempio il DRV8825. Nel caso non fosse sufficiente basta prenderne uno un pochino più grande. Insomma ci sono anche quelli molto grossi ma il principio di funzionamento è lo stesso. Quindi usiamo il driver perché ci permette di controllare il motore senza grande impegno da parte di Arduino. Quindi questo qua sarà il nostro stepper che mettiamo così. Qui avremo 4 fili. Se non sbaglio potremmo avere allora un nero e un verde e poi l'altra coppia è rosso e blu. Quindi i primi due li vado a mettere su B1 e B2. Quindi abbiamo B1 e B2 e gli altri su A1 e A2. Anche se li scambiate potete fare qualche prova. L'importante è tenere insieme le coppie, cioè il B con l'A. Se cambiate il verso eventualmente gira da una parte invece che da quell'altra. Il nostro driver, il DRV8825, va alimentato con un alimentatore esterno. Quindi ci sarà, vi disegno qua un alimentatore, qui A, questo lo impostiamo a 12V. Quindi avremo il 12V che arriva sul VMOT, il pin VMOT. Lo facciamo così, quindi questo qua più 12V e va sul VMOT del nostro driver. Il ground lo tengo separato, lo faccio qua in azzurrino e lo andiamo a collegare al negativo dell'alimentatore. Tra i due conviene mettere un condensatore elettrolitico da un centinaio di microfarad. Quindi qui al meno, qui al più. Quindi 100 microfarad e tenete come voltaggio almeno 20-25V. Quindi 100 micro, 25V. Poi abbiamo qui in fondo un pin di ground, questo invece va in comune con l'arduino. Quindi lo portiamo da quest'altra parte. Abbiamo poi tre pin che ci servono. L'enable, step ed ear. Allora, per far funzionare il tutto, dobbiamo ricordarci di mettere, di collegare insieme il reset e lo slip. Questi vanno collegati insieme, vanno portati, li faccio in rosso perché vanno al 5V di arduino. E poi abbiamo gli altri tre pin, quindi enable, step ed ear. Allora, l'enable ve lo disegno qua. Quindi questo è l'enable. L'enable funziona al contrario, quindi se è basso il motore è abilitato, altrimenti no. Poi abbiamo l'altro che è lo step, STP. E infine la direzione, ve la faccio in giallo. Allo step daremo degli impulsini. Ogni impulsino fa fare uno scatto al motore. Con la direzione facciamo andare a destra e a sinistra e con l'enable fermo tutto. Manca un solo pin. Allora, la direzione l'ho messo sul 3. Lo step sul 2 e l'enable sul 4. Andiamo a scrivere il codice. Partiamo dallo sketch vuoto. Impostiamo i pin e la seriale. Questi li avevo già pronti, ve li incollo qua. Poi il resto lo scriviamo noi. Quindi abbiamo uscite 2, 3, 4. Il 5 che è l'input del fine corsa. Possiamo impostare inizialmente la direzione e l'enable. Quindi facciamo digital write. La direzione è il 3. Mettiamolo low. Quindi girerà o da una parte o da quell'altra. Tanto poi cambierà in automatico. Non appena tocca il fine corsa. E poi l'enable 4 lo mettiamo low per far funzionare il tutto. Se volete potete mettere magari un delay tra uno e l'altro in modo che tutto parte, aspetta un secondo e poi si avvia dando l'enable e poi entrando nel loop. Allora qui adesso ci scontriamo con una serie di problemi. Dunque io voglio che il tutto sia non bloccante. Dobbiamo gestire tutto senza dei delay. Dunque iniziamo a occuparci del movimento del motore. Quindi dovremmo dare degli impulsi sul pin 2. Per creare i timer andiamo a prepararci due variabili unsigned, long, t1 e dt. Poi creiamoci una variabile int p, sta per pausa, la mettiamo inizialmente uguale, facciamo 100. Perché dovremmo fare il tutto dinamico. Posso modificare il tempo, quindi la velocità con il trimmer messo su a 0. Dunque il timer lo facciamo così, dt uguale millis il tempo corrente meno t1 che abbiamo definito. Vado a vedere la differenza tra il momento corrente e il tempo t1 che ho salvato, la prima volta sarà 0. Se questo dt, se dt è maggiore di p che abbiamo messo pari a 100, quindi sarà 100 millisecondi, faccio scattare il timer, quindi vado a salvarmi dentro t1 il nuovo millis e sono pronto per farlo scattare un'altra volta. Cosa facciamo qua? Ogni 100 millisecondi andiamo a leggere l'impostazione del trimmer. Quindi facciamo analog read di a 0. Il valore lo leggo così, ovviamente devo rimapparlo perché analog read va da 0 a 1024. lo mappo tra 1 e 100 millisecondi perché poi lo usiamo come pausa, quindi è il p che vedete qua. Ora dobbiamo dare l'impulso sul pin. Chiamaci un metodo, lo chiamo toggle e gli passo il pin. Se andiamo a vedere come farlo, andiamo in fondo così che non debba mantenere lo stato del pin che vado a muovere. Facciamo void toggle int pin, qui mettiamo static int s uguale lo, s è lo stato, lo metto di tipo statico, gli passo il pin e di volta in volta vado a fare digital write del pin, sarà pin, e mettiamo s, dopodiché faccio s uguale not s, il contrario di s. Così che non devo salvarmi la variabile, ho questo metodo molto comodo che mi fa dai passi. In questo modo abbiamo creato la prima parte, quindi il motore si muoverà e continuerà a girare, possiamo intervenire sulla velocità. Ora dobbiamo però andare a inserire qualcosa che gli fa cambiare la direzione. Avendo quei fine corsa, che sono particolarmente problematici, un po' difettosi, insomma, conviene andare a intercettare non tanto lo stato, ma il fronte di salita o di discesa. Quindi ecco che creiamo due variabili, int, chiamiamola st che sta per stato, e pst, previous stato, quindi stato precedente. La tecnica dovrebbe essere ormai nota, ci mettiamo all'inizio del loop, facciamo st uguale digital read, il fine corsa è sul 5, quindi leggiamo lo stato del fine corsa, poi prima di ripartire faremo pst uguale st, in mezzo li elaboro. Quindi vado a vedere qual è lo stato corrente del pulsante, al termine dell'elaborazione lo salvo in una variabile, perché mi servirà il giro dopo. In ogni giro posso valutare lo stato precedente con quello corrente. Se ho pst che sarà low e entro nel loop e st diventa true, vuol dire che se prima era basso il segnale sul 5 e adesso è alto, ho avuto un fronte di salita e quindi possiamo intervenire facendo qualcosa. In questo caso faremo cambiare direzione. Allora posso dire se st è alto, and not pst, cioè pst era uguale, era basso, allora ho un fronte di salita e faccio il cambio di direzione. Se volete potete scriverlo, se no qui facciamo dir, gli passo il pin 3, che è il pin che vogliamo modificare, uso la stessa tecnica di prima. Allora vado a copiarmi questo toggle, per come lo stiamo usando potevo evitare di passare il pin, comunque se volete poi li ripulite voi. Quindi dir pin, anche questo avrà una variabile interna S, ma la metto I perché la prima volta la impostiamo qui low. Quindi la prima volta è low, la prima volta che chiamo sto metodo cambio stato, quindi la metto pari a I, vado a impostare il pin, salvo dentro S il contrario di S e questo dovrebbe assicurarmi il fatto che andiamo avanti e indietro. Quindi questo qui dovrebbe essere il tutto, lo compiliamo, lo carichiamo sull'Arduino e vediamo se funziona. Lo vedete qua in esecuzione, vedete che gira il motore, con il trimmer cambio la velocità, poi lì vedete anche i fini corsi, adesso andremo ad azionarlo, vedete che cambia direzione. In questo modo abbiamo trovato un sistema flessibile per realizzare quanto richiesto. Bene, per oggi è tutto, quindi questo primo step dovrebbe comunque aiutarli a mettere in moto la macchina. È un semplice controllo per un motore passo a passo. Ho pensato di mettergli fine corsa, come dicevamo, per evitare di dover contare i passi, perché non sappiamo mai come viene orientato il motore e come funziona. Quindi con i fini corsa la macchina si regola automaticamente. Bene, spero di aver risolto questo primo step. Intanto saluto Piano Soprano e ci vediamo domani. Ciao!